A Benevento per onor di firma in Coppa Italia una squadra, quella guidata da Michele Cazzarò per l'occasione, imbottita di giovani che cade contro il più quotato team di Gaetano Teri per 6-0. La cronaca al sesto Lanini di testa realizza il vantaggio in mischia per il Benevento. Il Taranto prova a farsi vedere al nono minuto con un'azione personale di De Marchi, però non impegna, particolarmente enunziante. Il raddoppio per il Benevento arriva al quattordicesimo, lancio di Lamesta per Manconi che sul filo del fuorigioco salta il portiere del Taranto e deposita il 2-0. Ventesimo c'è il terzo gol del Benevento, destro dalla distanza di Italia, complice la fortezza, pallone che si insacca. Il 4-0 con cui si chiude il primo tempo arriva al minuto 38, contro piede lì Lanini che mette per Lamesta, davanti al portiere sinistro dell'ex Rimini. La fortezza non ha scampo. Ripresa, i gol arrivano al minuto 64 con Lamesta. Da posizione defilata si accentra, salta due avversari sinistro che trova l'angolo più lontano. Il definitivo 6-0 al minuto 77, tripletta personale di Lamesta che segna direttamente su calcio di punizione. Adesso inizia un nuovo capitolo per il Taranto. Si passerà dall'esonero del tecnico Capuano vicini altri a D come quelli di Miceli, Ferrara, De Marchi, Enrici, De Santis e molto probabilmente anche Fabbro. Bisogna correre perché il Taranto entro una decina di giorni dovrà schierare una squadra utile ad onorare l'impegno della prima giornata di campionato, evitando di fare figure come quelle accadute al vigorito di Benevento.